Io sono Vittorio e sono stato diplomato all'Istituto Tecnico Agrario di Siena. Quest'anno sono iscritto al primo anno del corso di Agribusiness. Ho voluto scegliere questo corso per due motivi. Il primo è per continuare comunque il mio percorso nell'ambito dell'agricoltura avendo fatto l'agrario, però comunque anche da un punto di vista economico. E in secondo perché mi è piaciuto molto l'obiettivo proprio di questo corso, che è quello di superare un po' la difficoltà che c'è molto spesso di eliminare quel distacco che c'è da quando ti laurei all'inserimento nel mondo del lavoro. E questo grazie alle tantissime ore di stage direttamente in azienda. Mi chiamo Roberta Pezzicoli, ho frequentato l'Istituto Agrario di Siena e ho scelto questo corso perché l'ho vista un'opportunità soprattutto nel mondo lavorativo, perché già nel primo anno di studio sono comprese delle ore di tirocinio, quindi ti permette comunque di crearti una base professionale per affrontare al meglio il mondo del lavoro. E poi perché siamo unici in tutta Italia, quindi a questo punto la domanda da chiedersi è perché non iscriversi. Io sono Chiara e vengo dal liceo delle scienze umane di Siena. Ho scelto il corso di Agribusiness perché è un corso professionalizzante, e quindi può prepararmi al meglio al mondo del lavoro, anche grazie al tirocinio che abbiamo già dal primo anno, che quindi può darci una preparazione più tecnica e degli strumenti da utilizzare poi in un futuro. Inoltre perché è un corso multidisciplinare, quindi abbiamo la possibilità di conoscere tante materie varie che possano darci una formazione più completa. Sono Giulio, vengo da Como, dove ho frequentato liceo scientifico e quest'anno mi sono trasferito a Siena per studiare Agribusiness. Siena è una città chiave per questo settore. È una città ideale per l'agri-food. Nelle vicinanze del territorio di Siena sono presenti grandissime eccellenze del settore agroalimentare. Questa è una condizione importantissima proprio perché può portare grandi sbocchi professionali al termine di questa laurea. Mi chiamo Lorenzo, vengo da un istituto agrario che è l'Istituto Angelo Venni Capezzini a Cortona. Sono stato cinque anni in questo istituto dove ho preso la specializzazione in enologia. Ho trovato questo corso di Agribusiness che mi ha subito colpito uno per essere un corso nuovo quindi il titolo che avrò sarà il primo in Italia. e poi perché ci sono tante ore di tirocinio quindi si passa dalla teoria alla pratica in maniera netta così c'è subito un approccio lavorativo che ci permetterà di essere già formati quando saremo laureati.